Sergio Leo è il nuovo responsabile della squadra mobile di Arezzo. Succede a Pietro Paolo Penta che è stato di recente trasferito a Pisa a capo della Digos. Lo abbiamo avvicinato al termine della conferenza stampa di presentazione chiedendogli in particolar modo la sua opinione sulla baby gang che di recente è stata sgominata proprio dalla questura di Arezzo. L'operazione è stata un'operazione che ha comportato un grande lavoro da parte degli uffici di polizia. Il dottor Penta è stato molto gentile nel spiegarmi quale sono state le dinamiche che hanno portato poi a redigere questa informativa di reato che ha portato all'emissione naturalmente di misure caterari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Il fenomeno della devianza giovanile e comunque del disagio giovanile va sicuramente attenzionato da parte nostra come ufficio di polizia e io cercherò di proseguire, anzi non cercherò, proseguirò sulla strada che è stata già avviata dal mio predecessore. L'analisi del territorio è fondamentale. Sotto questo profilo il capo della squadra mobile ha necessariamente bisogno di tempo per conoscere il territorio ma ha incontrato i ragazzi della squadra mobile e li ha definiti un gruppo compatto e sicuramente capace di far bene. Sono appena arrivato, sono arrivato lunedì scorso. Credo che l'analisi del territorio anche dal punto di vista criminale sia fondamentale per poter svolgere al meglio il nostro lavoro.